Il gruppo vi faccio un saluto da Bergamo dove noi facciamo i check annuali sui pazienti che hanno terminato quindi le cure e che vengono a fare il mantenimento. Vi volevo far vedere come deve essere mantenuta un'arcata completa su impianti dentali. Quello che vediamo qua oggi è un paziente che chiaramente per la privacy non vi facciamo vedere il viso ma quello che interessa a noi sono i denti. Ricordate che l'arcata artificiale è una protesi non naturale quindi noi andiamo a fare una simulazione di denti artificiali che devono essere mantenuti correttamente nella bocca del paziente dal paziente in condizioni di igiene ottimali. Quello di oggi qua è un paziente bravissimo bravissimo ha un'età di 80 anni quindi non più giovanissimo ma nonostante l'età io volevo farvelo vedere che è possibile mantenere una protesi in condizioni di igiene ottimali. Basta impegnarsi quei 10-15 minuti al giorno faccia pure un sorriso vi faccio vedere anche l'arcata inferiore l'arcata inferiore pure abbiamo un ottimo tessuto gengivale anche le gengive artificiali qua sono perfette chiuda ok anche le gengive artificiali sono perfette. Quando invece si scoprono i collarini qua di connessione agli impianti vi faccio vedere per esempio questo questo non è l'impianto dentale quello è l'abatment che serve a connettere poi i denti agli impianti quello non è un problema anzi quando questi si scoprono viene anche più semplice andare a pulire la connessione. Ma il punto di transizione tra la gengiva e artificiale la gengiva naturale è quello dove vi dovete impegnare di più con gli strumenti appositi della tepe che trovate sul sito www.igiene.drpalmas.com perché lì troverete i fili hidontics che permettono di passare con un'asola in plastica tra la gengiva e la protesi si passa qua sopra o direttamente dal palato si fa entrare l'asola che fuoriesce poi da qui davanti e con la spugnetta che si tira dietro si va a portare sotto la protesi la spugna che va a rimuovere la placca. Il paziente ha la protesi in bocca da più di un anno e sembra consegnata una settimana fa. Questo perché ne viene fatto un uso corretto della protesi non fuma non va a usare quindi delle sostanze che vanno attaccarsi come il catrame sulle protesi ma va a usare poi gli strumenti che noi gli abbiamo consigliato quotidianamente. Queste sono delle protesi veramente ben tenute tant'è che io ho chiesto la cortesia al paziente se potevo fare un video per farvi vedere come devono essere delle protesi pulite e come devono essere dopo un anno e più nella bocca del paziente. I tessuti sani sono rosa di un buon colore rosa pallido con la buccia d'arancia e le protesi non hanno macchie. Quindi vi ricordo se avete delle protesi avvitate su impianti ricordatevi www.igiene.drpalmas.com perché lì dentro trovate gli attrezzi che servono per l'igiene quotidiana. Unitamente poi a un giorno che investite del vostro anno solare nel venire al centro di check up per fare poi la pulizia professionale, le foto e soprattutto la TAC 3D volumetrica che ci fa vedere quanto osso c'è, quanto volume di osso c'è vicino agli impianti dentali perché dalla sola panoramica questo non si vede e vi faccio un saluto qua dal centro.